Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Nel momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 l'area di servizio di Chianti Ovest in direzione Roma, il camper service chiuso per un guasto all'impianto. Per la viabilità cittadina a Firenze, nell'ambito dei lavori della linea 2 della tramvia, la prossima settimana in programma lo scarico delle rotaie e il primo getto dei binari nel tratto finale di via di Novoli. Per i treni l'euro notte 35 e 29.5 da Tarvisio Bosco Verde a Roma Termini al momento viaggia con 36 minuti di ritardo, ferma ad Arezzo alle 7.46 salvo recupero. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!